Eeeh, ciao a tutti i lupi e li vediamo in questo video, io sono ValaWin e questa è Minecraft e Hardcore, stavo dicendo estremo, lo so, scusate ma io dico estremo, cioè, non voglio copiare troppo youtuber, però io dico estremo perché è estremo, è hardcore, è dato tutto l'interno, perché sono uscito, non lo so, allora, per prima cosa, off camera non ho fatto niente, cioè, sì, ho fatto cose, intanto, vedete qui, quanta, quanta bellissima pelle questa ci servirà per fare esattamente quello che dobbiamo fare in questo episodio, ma giù, giù, regà, voi, non so a che punto ero arrivato nel video, Però io l'ho sistemata off camera, guardate un po', vabbè, qua c'è il coso, qua ho messo dell'esperienza, prima non ho preso probabilmente, guardate, prima ci sono le cose online, vabbè, sopra e sotto, che c'è qua non ho finito, però vabbè, lì c'è una cosa di vetro, ho tolto l'acqua, non so se l'ho fatto nel video, qua ho finito, ho messo le torce e qua ho fatto molte mucche, ce ne erano molte di più, però ho preso veramente tantissima pelle, ho fatto semplicemente questa off camera di qua e di qua, non c'è un cacchio, c'è solamente la miniere, quindi, vabbè, l'ascensore d'acqua funziona molto bene però, quindi, Sono felice In questo episodio cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare tante cose, ma noi la prima cosa che faremo adesso è farci una vera e propria enchantment, perché non è possibile che ogni volta, vabbè, intanto, guardate, non sentite il godimento ogni volta, io devo cambiarla, non sono ancora in uno undici, ecco perché hanno messo gli observator blocks, se no l'avrei fatto, dovrebbero esserci un pochino di cose, grazie Quindi abbiamo veramente tante cose, quindi possiamo fare così, no, non si crafta così la carta, così, grandissimo e facciamo un casino di libri, adesso non mi ricordo precisamente quanti libri servono per fare la crafting, cioè la cosa, io non me lo ricordo ma Ma non ho la legna, raga, non ho la legna, come faccio a prendere, no, 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 mi vado a suicidare, raga, vado, praticamente ho usato tutta la legna che avevo per fare quella roba lì che è, comunque, cioè, è venuta figa, eh, devo dire la verità, mi piace molto come casa, però devo andare a prendere di nuovo la legna Raga, ogni volta per venire qui a un parto, voi non potete capire perché ve la taglio, ma è un parto, raga, si sta facendo notte, io non ho nemmeno preso due stack, che palle la vita Raga, ho finito adesso ed è notte fonda, voglio fare una piccola, oh, c'è un'armela, no, scherzavo, una piccola challenge, adesso io sono in hardcore, lo sapete tutti, no? Io adesso cosa faccio Non vedo un cacchio di niente ma dettagli No 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 Ai 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 Praticamente io cosa faccio? Corro finchè non arrivo a casa più o meno Perché fidatevi è lunga E io ovviamente dirò cose sopra A questo melissimo No 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 Ragazzi muoio ragazzi muoio Ragazzi muoio qui Ragazzi muoio Oddio oddio quanti mob Oddio oddio Ragazzi non ce la faccio Cioè non ce la posso fare è illegale È illegale avere così tanti mob Probabilmente ce l'ho tutti dietro Dov'è casa mia? Casa mia è là Manca poco C'è qualcuno dietro? No ok non ho più nessuno dietro Ok tanti scheletri Cacchio c'è uno scheletro Ok c'è uno scheletro Non hai capito un cazzo della vita Non hai capito No, 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 no no, 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 no Ok, mi chiudo Aspetto la mattina, ok? Facciamo che aspetto la mattina Hai fatto? Oh, 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 oh Ciao, mondo Buongiorno, mondo Come ti va la vita? A me è abbastanza male, visto che c'erano degli schele Ok, lo scheletro è morto Il ragno sta qui tranquillo Mi servono le stringa però, scusami, ragno, ma ti voglio male Creeper, creeper, scheletri andati Ok Siamo sopravvissuti una notte fuori dalle tenne È stata una cosa difficile Ma ce l'ho fatta, vieni tu creeper Il mio arco che non uso ma Sono più bravo di così A tirare di arco, fidatevi Oh, muori? Ok, non morivo Allora ragazzi, visto che Le librerie le faccio off camera Perché sono Cazzo Ok, no però non ha fatto esplodare niente Dai, meno male Io voglio uccidere tutti i creeper del mondo Ma questo È stato bravo con me, poteva fare molto di peggio Dai, e Non lo riparerò mai questo buco Anzi, ci faccio la copertina del video con questo buco Guardate, in live la copertina Ok, ho fatto lo screenshot Bene, che bella la vita Frd, così non vi dà fastidio lo screen E adesso Vado a vedere Vado a controllare Se serve Un po' di stone Cioè, se ho un po' di stone più che altro Ok, ho degli stone bricks Molta cobblestone Che vado adesso a cuocere Vediamo se ho Quanto Quanto Collo Mamma mia, quanto La domanda è Perché sono andato a prendere legno? La risposta è Non lo so Cioè Ho sprecato Mezz'ora della mia vita A prendere qualche stack di legno Non ho capito perché Ma dettagli Allora Come voleva fare Polar Questa bellissima struttura Volevo Per prima cosa Non piazzare le torce Cioè, una cosa Sarebbe una cosa molto bella Fare una cupola Adesso Io non sono per un cacchio Bravo nelle cupole Ok? Io lo dico chiaramente Però Credo possa venire qualcosa di figo Se mi ci impegno Perché col cuore Si fa tutto Era col culo Una volta E vabbè Oh, sentite Rega Io ci Ah, le blocche di sabbia Non c'entrano E nemmeno questa torcia Queste cose qui Le avevo messi per far capire Dove mettere le librerie Più o meno E lì le metterò Al centro L'enchantment table Comunque La piattaforma è piccolina Non lo so Non volevo che fosse grandissima Infatti Non è molto grande Però a me piace veramente tanto Adesso Iniziamo Col Fare sempre le cose Che è Ecco perché ho preso il legno Uno, due, tre, quattro Ok Vabbè Sprechiamo tanto Uno, due, tre Ok Notare la mia ombra Che vede che salto Vedete la? La vedete? Guarda che figa Ok dai Le colonne Mi gustano Più o meno Mi gustano Dai Adesso C'è il vetro Che ho messo a cuocere Nell'evenienza L'altro giorno Quindi Se qua ci stanno le cose Aspè Qua ci sta l'enchantment Ta 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 Quindi posso fare Direttamente Qui Ma se invece Mi verrebbe Una cosa migliore Se avessi Della stone Grande Io Perché mi chiamano Quando recisto Amico mio Perché mi chiami So 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 Io farei così Vediamo un po' Come viene Vediamo un po' Perché se no La tolgo Eh Però intanto Iniziamo a vedere Come straviene Ok Tre E li ho fatti Poi voglio Un blocco di appoggio Qui Fence Ok Blocco di appoggio Qui E così via Adesso controllo Come viene Da L'interno Esterno Barra Firmware Hardware Software Non so cosa sto dicendo Ok Regà Non ci crederete mai Ma credo che il vetro Mi basti Cioè Credo No mi sa che non basti Scherzavo Scherzavo Casomai che una volta Apollo Andasse tutto bene Strano Non l'avrei mai detto Eh Aspè Perché qua Cosa cacchio ho fatto Aspè Ma è giusto No aspè Non sto capendo Che cosa ho fatto qui Poi Questo qui non c'entra Smettila Di mentire Qua è Così Ma perché No No Non ci voglio Credere Raga Devo cuocere Altro vetro Perché sono Un idiota No Non ci voglio Sapete cosa posso sperare Posso sperare in una toccata Proprio nel senso vero della parola In un tocco di culo pesante Adesso io faccio una cosa Che di solito non si fa Però la faccio Scherzavo perché mi sono dimenticato Quindi Prendiamo Questa Cosa Que 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 Questa cosa qui La mettiamo giù a cacchio duro Mettiamo qui Qui E prendiamo No Ti prego dammi un silk touch No No Ti prego dammi un silk touch Non posso Accentare la zappa Eh Dai ti prego Non puoi dirmi così No dai Io non c'ho voglia di farmela Raga Io Voglio il silk touch Ve lo dico chiaramente Per favore Dammi Un silk touch Ti prego Dai Dai Gazzo Niente No My job camera Ho capito Ho sistemato Raga Ce l'ho fatto Ho tolto il vetro Ho messo a cuocere dell'altro Guardate io Devo fare ancora Alcosa lì Ho 19 pezzi di vetro E adesso Vado a prendere gli altri Sì Ah no Aspetta non sono gli ultimi Non sono gli ultimi Stavi mentendo Ti prego Ti prego Fa che basti No Fa che basti No Fa che basti Ma l'ho fatta para Aspetta Aspetta No 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 Scherzavo Perché non l'ho fatto qui Mi mancano due pezzi Ok 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 Sì Sì Ho finito La copola Quanto odio questo lavoro Allora Adesso Per finire Utilizzerò queste bellissime Hoak cose Dark hoak cose Per Ma devo finire anche questo Ok Interruzione a parte Perché mi hanno entrato Tipo 20 persone Aveva intenzione Di fare Dis Precisissima Cosa Che state vedendo In questo momento Allora Vediamo un po' Come Lucca Poi Perché La parte La vuole l'occhio Perché sta cosa qui E' inutile D'altronde Non è che sia questa grande cosa Però Credo che luccherà molto bene Sinceramente Non credo che farà così Tanto schifo Cioè Ho capito che fa Che io faccio schifo a costruire Finito Mettiamo uno alla fine Perché fa sempre figo E vediamo un po' No Mi gusta Mi gusta Mi gusta Mi gusta Tranquilli che mi gusta Adesso chiudo L'ingresso Con Questo Quindi Per favore Non cadermi male Idiota di un mondano Tac 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 Qua sopra Appena avrò Ci metterò al vetro E chiudo anche qua sopra Sempre col vetro Quindi Sac Qua però metto un Un bel Treio Di coso Va bene così Sì perché tanto Metterò al vetro Ok ci sto Raga intanto che si cuoce la sabbia Vi dico One piccolissime Paio di cose Allora Non so quando verrà pubblicato Questo video Ma io ho fatto Il primo episodio Della Dei lamenti Della vita di un liceale E ho anche registrato Già il secondo Non so quando uscirà Perché Boh questo video E lo story Di strano Non so quando Cioè si lo so Ma non lo dico Perché sono Hacab E quindi Volevo dirvi una cosa Ho visto che vi è piaciuto Veramente tanto Il video Quel video strano Che ho portato Sulla vita di un liceale Ne volete di più Ne volete di meno Fatemelo sapere Perché Quella serie La posso portare Velocemente Perché vabbè Velocemente Scrivo la story La story Quello che Mi capita In quella giornata Di cui voglio lamentarmi E La registro da solo Perché Tanto quella roba lì Devo semplicemente Parlare io Quindi Non è molto difficile Da registrare Invece Per la worldcraft Abbiamo dei piccolissimi Problemi con il server L'atternos Non ci sta aiutando Alcuni personaggi Non ci stanno aiutando Ed è sempre più difficile Registrare e trovare Dei momenti Quindi La world Non verrà sorpresa Ovviamente Però Aspettate ancora un pochino Per un ipotetico Prossimo episodio Perché il copione L'ho già fatto Fatto quello del quinto E del sesto Però Ci metterà ancora Un bel po' Quindi tranquilli Mai Uscirà Ditemi intanto nei commenti Se vi piace L'altra mia serie Allora Parliamoci chiaro La lovo Cioè mi sta Cioè Raga Come fate a non amarla È bellissima Un'ultima cosa Prima di chiudere L'episodio Abbiamo i libri I app Abbiamo Il legno Che adesso Continuo a fare Guardate un po' Abbiamo Guardate Undici Librerie Quindi Iniziamo a disporre Le librerie In modo Abbastanza Normale E figo Quindi Mettiamone Una qua E una qua Perché Abbiamo le corna E qua Mettiamo La nostra Incentive Vediamo un po' Fino a che livello Riesce ad arrivare Livello 22 E Off camera Arriverò anche al 30 E ve le metterò Ve le farò vedere Nel prossimo video E devo mettere Da qualche parte Un po' di glowstone Quindi Dopo Faccio qualche modifica Nel caso Ragazzi Sembra una cosa Abbastanza pacchiana Però in realtà È una figata Cioè dai Figa Non potete dirci niente Qua metterò Una cesta con il loot E qua magari Un envilo Cosa del genere Ragazzi Quindi questo episodio Vi sia piaciuto Io Ci ho messo veramente tanto A prendere anche la legna Quindi Quindi lasciate un like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E se Siete dei bravi lupi Condividete anche il video Così mi aiutate A crescere Sempre Nel prossimo episodio Verrete già tutto finito Con le libriche Già fatte Cos'è meno Non vi smazzate Le libriche Che sono veramente Una cosa incredibilmente Noi chiusa da fare E quindi Interregateci Per un prossimo video Bella lupi Ciao